buongiorno a tutti gente varia ed eventuale ci sono domande che l'umanità si pone da secoli chi siamo da dove veniamo dove andiamo e quanti schiaffi ci vogliono per cuocere un pollo 23.034 calcolati da un fisico americano e poi ci sono io che mi sveglio nel cuore della notte pensando ma se un alieno distante 65 milioni di anni luce guarda verso la terra ci vede ancora i dinosauri fortuna per me e per chiunque altro si sia mai posto questa domanda un uomo ci ha dato la risposta l'uomo in questione è il dottor Matt Kaplan e lo trovate sul suo blog quarksandcoffee.com che vi invito a visitare se cercate risposte sensate a domande insensate comunque la risposta è teoricamente sì ma cominciamo dalla base torniamo indietro 65 milioni di anni quando i dinosauri popolavano ancora la terra e il sole allora come oggi emetteva fotoni e li sparava un po' ovunque nello spazio i fotoni per farla molto semplice sono le particelle da cui è formata la luce alcuni di questi arrivavano sulla terra rimbalzavano su un t-rex e venivano catturati dai nostri occhi gli occhi dopo essere stati colpiti dai fotoni fanno partire tutta una cascata di segnali che come risultato finale arrivano al nostro cervello e ci fanno dire oh un t-rex sto per morire ma il t-rex è un po' come una palla da discoteca e una volta colpito da fotoni li fa rimbalzare verso tutte le parti spazio compreso questi ultimi viaggiano alla velocità della luce cercando altre retine su cui venire impressi per mostrare la magnificenza del più grande predatore terrestre mai esistito la luce però per quanto veloce ci mette tempo a viaggiare se fate quindi 2 più 2 vi renderete ben presto conto che guardare qualsiasi cosa è un po' come guardare nel passato maggiore la distanza dalla fonte maggiore il tempo che ci mette la luce a raggiungere l'osservatore e di conseguenza più indietro nel tempo guarderemo ad esempio la luce ci mette circa un secondo per raggiungere la luna ciò vuol dire che un astronauta vedrebbe quello che il nostro dinosauro stava facendo un secondo fa sono invece necessari 8 minuti per raggiungere una distanza pari a quella del sole e persino voi che mi state guardando con un cellulare a 30 centimetri dalla faccia mi vedete un nanosecondo nel passato quindi tiriamo le somme la luce con impresso il nostro T-Rex ha lasciato la terra circa 65 milioni di anni fa e ora si trova a 65 milioni di anni luce di distanza perciò sì se gli alieni sapessero dove puntare i telescopi riuscirebbero di sicuro a vedere i dinosauri il problema però adesso è un altro è possibile per una civiltà ultra tecnologica costruire un telescopio abbastanza potente? 65 milioni di anni luce è una distanza immensa e la terra è molto piccola giusto per darvi un metro di paragone la maggior parte delle stelle che potete vedere di notte sono entro mille anni luce di distanza la nostra galassia è larga a circa 100.000 anni luce mentre Andromeda la galassia più vicina a noi è a 2 milioni e mezzo di anni luce di distanza se sei a 65 milioni di anni luce e vuoi vedere la terra hai bisogno di un telescopio parecchio grande morale della favola usando quello che sappiamo sulla risoluzione delle lenti i fisici hanno calcolato che agli alieni servirebbe un telescopio del diametro di 50 milioni di chilometri che se non siete pratici di distanze è circa un terzo della distanza che separa il sole dalla terra e questo sarebbe solo per vedere la terra delle dimensioni di un pixel tutt'altro discorso è se oltre alla terra vogliono vedere anche il T-Rex allora dovrebbero procurarsi una lente larga a 4,4 milioni di anni luce e lo vedrebbero lo stesso come un puntino potrebbe essere sia un T-Rex che un volgare triceratopo e per distinguerli servirebbe una lente ancora più grande e secondo voi una civiltà ultra avanzata avrebbe le capacità per costruire tale lente? ve lo dico subito no e non perché gli alieni siano gente brava ma che non si applica il motivo ce lo spiega la teoria della relatività di Einstein la quale dice che la materia curva lo spazio-tempo e quindi più massa abbiamo più lo spazio viene curvato e se mettiamo troppa massa in un punto la curvatura dello spazio-tempo sarà così estrema da formare un buco nero e una palla di vetro larga 28 minuti luce abbastanza massa per collassare su se stessa formando un buco nero motivo per cui ogni tentativo di creare una lente più grossa di così porterà inevitabilmente i nostri alieni al fallimento quindi in teoria sì la luce che trasporta l'immagine del nostro T-Rex è ancora là fuori nello spazio ma sfortunatamente nessun alieno potrà mai vederla e farsi grosse risate sulle loro braccine corte ma sfortunatamente nessuno potrà mai vederla ma sfortunatamente nessuno potrà mai vederla